Quando in marzo ci siamo dovuti chiudere in casa per l'emergenza Covid-19 abbiamo aperto a tutti la nostra pagina Facebook e i vostri racconti sono arrivati come una cascata, fresca, viva e travolgente. Così non abbiamo sofferto la solitudine e per noi sono cominciati due mesi di lavoro intensissimo per portare a termine il nostro e vostro progetto. L'antologia Io sto a casa racconti dal marzo 2020. Oggi che possiamo di nuovo uscire il libro è finalmente arrivato in libreria. Ancora una volta grazie a chi è inserito nella raccolta, a chi ha comunque contribuito e a chi ha sostenuto la pubblicazione.